Ciao a tutti, oggi prepareremo la crema di caffè alla Nutella. Il tempo di preparazione della ricetta è di circa 3 minuti. Gli ingredienti sono caffè, panna fresca, Nutella, nocciole, zucchero e cacao in polvere. Diamo il via alla ricetta. Mettiamo nel boccale lo zucchero e polverizziamolo per 10 secondi a velocità 10. Adesso aggiungiamo il caffè e lo amalgamiamo per 10 secondi. A velocità 7. Adesso inseriamo la farfalla. Aggiungiamo la nostra panna. E andiamo a montare per un minuto a velocità 3. E aumentiamo fino a 3,5 e le diamo innessorino. Adesso andiamo a verificare la nostra crema. Questa è la consistenza e la andremo a riporre in frigo per 30 minuti circa. Trascorsi 30 minuti prendiamo un bicchierino e andiamo a fare i bordi con la Nutella. Prendiamo la nostra crema di caffè e andiamo a riempire il nostro bicchiere. Andiamo a spolverizzare con il cacao e se lo gradite un poco di scaglie di nocciole. Crema di caffè alla Nutella. Grazie e alla prossima ricetta. Grazie. 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 Grazie.